380 euro di bonus per l'acquisto di generi alimenti di prima necessità per circa 1.300.000 famiglie con redditi bassi. E i blocchi di partenza alla card predisposta dal governo per far fronte al caro spesa che ha svuotato i carrelli di molti italiani. Annunciato nei mesi scorsi e inizialmente ipotizzato per circa 1,4 milioni di nuclei, il provvedimento prevede un aiuto un tantum destinato a Chiaunisee fino a 15.000 euro annui che verrà erogato attraverso gli uffici postali. La misura governativa che sarà presentata proprio nei dettagli è stata inserita nella legge di bilancio 2023 grazie allo stanzionamento di 500 milioni di euro. La carta elettronica si chiama Dedicata a Te. A partire del 18 luglio i comuni invieranno le comunicazioni beneficiari della carta risparmio spesa contenenti le indicazioni per il ritiro delle carte presso gli uffici postali. Il termine era inizialmente previsto per la fine di giugno ma è slittato come comunicato proprio dall'Inps il 26 giugno perché in base ad alcune segnalazioni pervenute dai comuni è emersa l'esigenza di rendere molto più flessibili le modalità di gestione delle liste di potenziali beneficiari del contributo da parte dei comuni al fine di garantire la piena attuazione della finalità di sostegno del fondo alimentare. Gli ultimi dati Istat certificano che gli italiani sono costretti a spendere di più per comprare di meno. Le vendite al dettaglio a maggio rispetto ad un anno prima risultano positivi sotto il profilo del valore ma non del volume. A partire dagli alimentari la colpa è dell'inflazione ma anche della primavera più fredda del solito che ha frenato gli acquisti dei capi di stagione. Pieno invece il boom per i discount parliamo del più dell'11% mentre virano in negativo le vendite nei negozi meno il 0,6%.